Come consigliere comunale del Partito Democratico siamo venuti in piscina per vedere lo stato d'avanzamento dei lavori di posizionamento della rete. Purtroppo non ci hanno fatto entrare dicendo che i lavori sono in corso. Siamo stati oggi in piscina e dall'esterno abbiamo potuto vedere che i lavori sono già terminati e non sono in corso. La rete è posizionata ma nella piscina ci sono dei misteri insondabili. Siamo preoccupati perché se la piscina non riapre il 7 di ottobre il rischio è che la gente non si riscriva. Siamo preoccupati per il futuro dei lavoratori, per il futuro della piscina e i progetti finanzii perché la rete è una soluzione temporanea. Quali sono i misteri insondabili della piscina di Gallarate?